e sulle note di questa capogliata voglio anche presentarvi di D'Amborare del Vesuvio voglio dirvi potete sempre cercarci sul sito www.dammorare.com sulla nostra pagina facebook l'aprite potete cliccarci mi piace ma veniteci a trovo gara battente e mandolino Giovanni di Cilomi il nostro band è principe della tappogliata la tapporra la tapporra avuta la tapporra accornizia non filanasi alla pisarmonica Enzo Mazzarella D'Amborare del Vesuvio D'Amborare del Vesuvio D'Amborare del Vesuvio Luca Vasi D'Amborare del Vesuvio D'Amborare del Vesuvio D'Amborare del Vesuvio Ambrosio ci sta facendo compagnia questa sera ci annunziamo così siamo avanti per chi non lo sapesse è un po' di tempo che alle coreografie sta collaborando con noi una ragazza di figlia Serena Sacco le voci ci sta clicando è che siamo avanti sta già presentando fino a sole grazie sembra difficile ma non lo è molto facile è una delle persone che ha dato la possibilità a noi tutti di condividere questo momento perché è una delle eventi che ha progettato e ha diventato un momento di festa del genere che sono unici che ce li dobbiamo godere fino alla fine una delle voci più belle dell'altro che ce li do si avvense Simone caro venuto grazie grazie un grazie ai signori decisi a Tobi al fratello un grazie all'associazione Nova Marra Pasquale grazie alle persone che stanno sotto gli stessi che lavorano in silenzio ma fanno tanto ma soprattutto un grazie a tutti quanti voi che ci avete sopportati e sopportati e che non si parte con il vostro plato noi vi diamo l'appuntamento all'anno prossimo con un'altra edizione ma non è un festival lo chiamiamo festival ma è la nostra festa a festa che rimarra terra e famosa io non ho visto il popolo che succede e che la casa verso dentro quanto mi hanno soccato è nata l'ubbiatura è nata se danque si si e qui è il rock si 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 sia se si 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 se Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.